Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale, un proviamolo nuovo gioco nuovissimo, è uscito in pratica ieri Mortal Kombat Osloat Ok, andiamolo a vedere immediatamente insieme, se volete rivederlo lasciate un mi piace e condividetelo con i vostri amici ragazzi È una novità, quindi assolutamente è da vedere come se la cava Vado a scaricare i giga che servono e poi ci rivediamo qui Ok ragazzi, vi ho saltato il video di presentazione, se lo volete vedere guardatelo Nel suo tempio scuro Shinnok chiama a sé i suoi servitori, in spettro Scorpio nello stregone Quan Chi Quan Chi entra nel tempio delle ossa di Shinnok, Scorpio lo segue due passi indietro Con il capo Kino si avvicinano entrambi al Lord Shinnok che li attende accanto a una vasca di divinazione, l'acqua inizia a turbarsi Ah, ci sono anche pezzi di postoria Ok Va benissimo Non hanno messo le voci però Allora facciamo così ragazzi Noi vogliamo vedere il gioco, caso mai la storia se volete potete guardarla voi Nuovo combattente ottenuto, quindi è uno strategico? Posti di battle cats? Non penso Nuovo combattente ottenuto, ok Perfetto, nuovo combattente ottenuto Mi sta dando un po' di combattenti di base presumo Sì infatti Alcuni sono spiriti e basta Ok Questa è una battaglia di Scorpion Ogni scontro della storia richiede un combattimento specifico, va bene Ok, i combatti selezionati vai così Per ora sono tutti spettri quindi non sono Diciamo personaggi che ho messo io È giustamente il trailer iniziale per vedere com'è il gioco Ok Combatti Allora penso che sia un automatico a turni Quindi in base all'abilità In realtà c'hanno le ondate e le abilità Ok Interessante Ovviamente questo è il genere mobile Ormai li fanno quasi tutti così i giochi Vediamo un po' Vai posso fare l'abilità Get over here Allora per gli appassionati può essere carino da vedere È ad ondate, va bene Abbiamo un tempo per completarlo Combatti Ok Forse posso anche direzionare gli attacchi però, vero? Sì, posso direzionare gli attacchi Quindi abbiamo la libertà per le abilità almeno di Tirare dove decidiamo noi Ok Spam Ok Come here Che abbiamo fatto, le fatality? Mi è piaciuto il tiro a vuoto dell'altro personaggino Tempo della battaglia 30 secondi Perfetto Ci danno varie robine Varie oggettini Ok Va benissimo Obiettivi Vinci la battaglia Usando almeno un combattente spirito Affinità Ok Andiamo a provare Questo Mortal Kombat Oslo Se a te riesci a evocare qualche oni Sarà un bel duello Va bene Andiamo avanti Ok Posso scegliere ovviamente Penso l'eroe Lo sto premendo Quindi Vieni premuto il ritratto di scompio per accedere al suo menu Ok Ah si può livellare Fai salire di livello un combattente e gestisci il suo inventario Perfetto Livelliamolo Pole Conferma Perfetto Attrezzature Quindi abbiamo gli slot per mettere delle armi che magari troviamo e possiamo anche potenziare Vedo Ok Andiamo indietro Combatti Quindi abbiamo potenziato il nostro personaggino Abbiamo potenziato Scorpion Vediamo un po' com'è il combattimento Ok Ovviamente è automatico Unità indietro Unità avanti Che fanno le loro Ovviamente abilità specifiche Si caricano delle barre dell'energia per fare le abilità sui avversari Ok Va sempre ad ondate Perfetto Allora vai Combattiamo contro i cicciotti Che dove si è? Boom Eliminato alla grande Così ce ne siamo arrivati subito uno Bam Arcerata di cattiveria Ok L'abbiamo eliminato molto velocemente ovviamente Questi sono Livelli di allenamento Ricordiamo Ce l'ho niente di complesso Per farci vedere come funziona il gioco ovviamente Ovviamente penso ci saranno delle opening a sto punto Essendo un gioco strategico Con vari personaggi Se non si sbloccano solo con la storia Probabilmente si potranno anche acquistare La storia del teschio per evocare un nuovo combattimento Ecco qua Opening Alle Vediamo un po' Evoca Vediamo un po' che succede Evoca Va benissimo Bella l'evocazione Molto bella Perfetto Che abbiamo evocato? Oh Sarkness is cold Perfetto Mi piace Ombromante Ha evocato combattente a 5 stelle Wow Ok Storia Ovviamente si può vedere la storia di ogni personaggio Penso è da andare avanti con quella principale Vai così Adesso ci farà provare Penso è personaggio nuovo Quindi mi sa che era un 5 stelle Predefinito ovviamente Per la storia Ok Qui chiacchiano e fanno la storia Ragazzi se volete vederla La storia Scarica del gioco E provatelo Mortal Kombat Osloot Lo trovate su Play Store Tranquillamente in italiano come vedete Ok Tocca al combattente sul ritratto Ok Per rimuoverlo dalla squadra Perfetto Quindi posso rimuovere un personaggino E cambiarlo con lui Va bene Così possiamo provare come funziona Ricordo che sto giocando dal mio nuovo smartphone E è l'unico modo per poterci giocare Dal mio classico dispositivo non funziona Oh Si è sdoppiato il maledetto Vai Abilità cattive su sto tizio Mi stanno a menà Vai Potta secca Bam Ah ho curato il mio compagno Ok Vediamo un po' l'ombromante Cosa vuole fare Adesso arriva l'abilità dell'ombromante Se carica? No niente Non si è caricata in tempo Quella dell'ombromante Bam Come here Intanto Curiamo Scorpion L'ombromante ancora non ha fatto la sua abilità E dai fammela vedere Eccola Oh che bello Ha tirato una sorta di ombra Non so se ha potenziato il nostro Perché si è buttata sul nostro Va bene Interessante È un gioco molto semplice È un gioco passatempo Come tanti di quelli Da smartphone degli ultimi periodi 1, 2, 3 Cosa? Cosa? New combat Ok Nuovo combattente Di livello qualcosa Modalità arena sbloccata C'è anche del pvp Quindi Aha Potrebbe essere interessante Come giochino Ovviamente io ragazzi Sto cercando giochi nuovi Da affiancare a Monopoly Go E Vedere se qualcosa di nuovo vi piace Ovviamente c'è tanta storia dietro Battaglia 4 sbloccata Controlliamo un attimo questa battaglia Penso che poi ci fermiamo Se volete vedere più contenuti del gioco Me lo scrivete qua sotto nei commenti Battaglia numero 4 Posso andare a giocare direttamente Per provare E casomai andiamo a vedere Se posso fare un potenziamento In questo momento Sono sempre pezzi di storia ragazzi Quindi vi faranno vedere sempre scene E racconti della storia Ok Posso andare a potenziare magari il mio Oppure posso andare a potenziare Il nuovo Level up Ok Confermiamo I punti non ci mancano Perfetto Allora Non abbiamo attrezzature Presumo invece ci Ce l'abbiamo No perché è soltanto di un personaggio Quindi devo anche trovare L'attrezzature nuove Va bene Ho fatto un po' di potenziamento Dai andiamo a vedere Il combattimento Sono 3 ondate Ok Bello il caricamento Bello il logo ovviamente Oddio ma mi manca un personaggio No me l'ha tolto No Sono pirla Ho sbagliato qualcosa Probabilmente tenendo premuto L'ho tolto dalla squadra Quindi sto giocando con 3 personaggini È un problema Perché Scorpion pia a botte Però Oh sta fallabilità al maledetto Oh 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 Che fortuna che è molto resistente Il mio personaggio Oh per via Ok Bella arcerata Contro il nostro avversario Una curettina Perché se no Il nostro provero Rischia male Non so se ha curato Mi sa che non ha curato Ha fatto l'abilità Ok Probabilmente perché Stava ancora bene Il personaggio principale Il nostro Scorpion Che sta a prendere Delle botte infinite Siamo solo all'ondata 2 Serve una cura Ok Olè Forse io ho interrotto l'abilità Non ne sono sicurissimo Va bene Vai così Posso scegliere chi fare L'abilità vero Yes or Facciamola a lui No ho fatto una grande cavolate Non ho preso dei danni assolutamente Ok Curetta Molto piccola la cura Aia Sto prendendo botte ragazzi Tante botte Eh Ma sai che ce perdo Questo solo perché Per sbaglio ho levato uno dei personaggi Eh sì No sta per morire Scorpion Morto Scorpion Penso che sia persa Allora aspettate Ok Esci Ovviamente devo abbandonare Per forza la battaglia Perché mi sono dimenticato Un personaggino Sono un pirla Confitta Bravo Morduk Bravo Facciamoci subito riconoscere Ok Poi lo valuterò ragazzi Poi lo valuterò Allora Seleziona battaglia Adesso fatemi rimettere Il mio personaggino Che mancava Maledetto Morduk Che non sei altro E facciamo Quest'ultima battaglia E ci fermiamo La devo vince Ok Mi fa rivedere la storia Quindi è saltabile Per fortuna È tutto schippabile Da subito Quindi se vi interessa Solo giocare Va benissimo Ok L'abbiamo messo Ah in realtà Mi sa che ci abbiamo Altri spazi Vero? No Ho visto male Perché a me sembra Che ci siano altri spazi Ok Questi due davanti E loro due dietro Facciamo così Vai Mi sta L'ho anche spostato Quindi si può decidere Anche la composizione E la posizione Quindi fino a un massimo Di sei Ok Dai Menamoglie Ho detto Menamoglie Non sta fermo Però Ok Non si muoveva Molto lento Come personaggino Quello Ok Ha fatto l'abilità sua Ha fatto un sacco Di danni Va benissimo Adesso ce la facciamo Per forza 100 100 Ok L'abilità Me la tengo per dopo Perché sono Tre ondate Quindi Questi piccoletti Li eliminiamo Con tranquillità Ah e a distanza Anche l'ombromante Ecco perché Non lo dovevo mettere davanti Allora Lo dovevo lasciare dietro Buono a sapersi Perfetto L'abilità Le ho ottenute tutte Per la fine E quanta passeggiata Avete fatto E che è Vai Ombromante Che va a potenziare E a curare Il personaggio principale Allora Io lo vorrei fare Su questo Però Ole Come here Bam Che un masciottone Gli ha tirato Andiamo a dare una mano a lui Bam Colpo a distanza L'arciere Ok Adesso viene a darci una mano a noi Grazie Molto gentile Molto gentile Vittoria Tempo per la battaglia 47 secondi Ovviamente Penso che I vari punteggi Si fanno anche in base al tempo Infatti ci stanno degli obiettivi Da portare a casa Allora Ragazzi Questo è Mortal Kombat Oslo Cosa ne pensate Ditemelo qua sotto Nei commenti Se volete vedere altri episodi Oppure se volete Una serie sopra questo gioco Perché c'è anche la modalità arena Quindi c'è del pvp Sicuramente Riammi le like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se i nuovi Lasciate la hashtag Proviamolo qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video